Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Tornate ai video precedenti, tornate, perché questo aggiornamento è il più grande di sempre. Io ragazzi sono incredulo a quello che sto assistendo, a quello che sto vedendo. Ho appena sbloccato la cosa di 40 skin senza avere 40 skin, ma vabbè, sarà qualche bug strano. Però, non mi chiedete come faccia a venire così tanti, ma stamattina ho unboxato. Guardate qui, ma guardate solo la grafica, quanto è figa. No, questo mini pack è così, no, regà, regà, è qualcosa di assoluto. E' la cosa più figa che abbia mai visto su un gioco, Supercell, di tutta la storia. Questo è un cambio grafica assurdo. Tutto, tutto nuovo, tutto nuovo. Sono a livello 66 di questi. E' diventato più difficile sbloccare. Infatti, ci ho giocato stamattina, è quasi impossibile sbloccare. Ma noi dobbiamo parlare del gameplay, che lo rende un gioco assurdo. Il negozio, fanno un botto di regali sti giorni. Quindi cercate di fare il login ogni 5 ore, perché danno sta cassa qui gratis. Per 12 volte, regà, assurdo sto aggiornamento. E' il più bello di sempre. Assurdo, non smilanciamoti troppo sul più bello, perché adesso vi aggiungo una piccoletta cosetta. Il pass costa solo, a differenza di prima, 9 euro. Non dobbiamo più spendere 4 euro. Ma parliamo direttamente 9 euro. E questo è molto interessante. E' molto figo. Perché così non è come gli altri giochi. Su questo è che stanno implementando 16, 17, 18 euro. Questa cosa è molto figa per noi. E' molto buona. Ma forse quella offerta da 4 euro torre ne va. Speriamo di no. Hanno cambiato la creazione del club. Hanno cambiato i loghini. E la grafica. La grafica l'hanno cambiata. L'unica cosa a cui non è cambiato nulla. Forse sono un po' le mini room. Un po' così rotonde. Questa mini room poi la dicono che la vanno a togliere. Quindi ci potremmo invitare. Molto figo. E la musica, regà, è qualcosa di assurdo e l'oppy. Ma la cosa ancora che mi fa più pensare è questa. Ma regà, ma sta roba. Lo so, adesso molti di voi diranno cambia solo la mappa, figo è una skin. Regà, è molto figo e ci sta. Però lo sfondo qua è l'hobby. Se dovete, fatelo cambiare. Tipo la lobby. Io metto quello scenario. Mettimi lo sfondo di quella lobby. Così almeno è più realistico. Non proprio ora, ma nelle prossime season. Così, ho scritto quella normale. Quella generica. E queste. Così almeno non dovete più cambiare lo sfondo ogni season. Ma la cosa? Sono i nuovi personaggi. Hanno messo questo. Più di 20 nuovi personaggi. E uno di questi già lo ha sbloccato. E ci andiamo a fare una partita. È il più difficile. Come potete vedere sbloccare i personaggi. Un botto più difficile. Il negozio è così. I club sono così. Gli eventi sono stati spostati. Questo. È la cosa delle abilità che mettono sempre in game. E questa cosa è molto carina. Perché lo vedo più veloce. Più dinamico. Come potete vedere. La cosa che lo rende ancora più figo. È che. A differenza di prima. Qui me lo zomma. Non me lo mette distante. Però. I personaggi. E questa è una cosa da prendere importanza per la beta. Sono un casino da sbloccare. Non so per chi di voi. Mi dice. È vero Kevin. Sono un casino da sbloccare. Infatti. Rega. Sto giocando. E noto. Noto. Che è un casino da giocare. Da sbloccare i personaggi. Quindi speriamo che in futuro lo modificano. Ma rega. Mamma mia. È l'unico gioco. Di Supercell. Che si sta impegnando. L'unico. Rega. È l'aggiornamento più grande fatto in un gioco Supercell. E adesso voglio parlarvi seriamente. Di. Di tutto Clash Mini. Questo aggiornamento. È l'aggiornamento più. Più grande. Mai fatto un gioco in sviluppo. E in. Tutto l'azienda Supercell. Molti mi hanno detto che è uscito GTA 6. Lo so. Lo so. Va bene. È uscito. Rega. Lo so che è uscito GTA 6. Poi un'altra cosa che sarebbe figo. Per questi. Come potete vedere. Cambi mappa. Però non lo so. Se mai arriverà. Però ci starebbe comunque. Una cosa molto figa. Che vorrei vedere. E soprattutto. Come potete vedere. Vedete che qui. Ci dà questa mappa. Tipo. La casualità. Proprio la mappa. Tu la puoi mettere casuale. Proprio una mappa casuale. Cioè non più una mappa. Di mezz'ora. Una mappa casuale. Mi piacerebbe poter mettere. Però rega. Ma questa roba. Quanto è forte. Sta season. Ma do quella cosa. Cosa mi ha fatto. Mi ha devastato. Rega. È molto bello. Ho scoperto che. A difenza di prima. Questa è una cosa. Da prendere in importanza. Importanza. Per il futuro. Di. Clash mini. Ed è una cosa. Davvero importante. Non è la grafica. Una cosa davvero importante. E io. Posso andare. A togliere. Una di queste abilità. Ancora. Non si può fare. Cioè. Tipo. Faccio finta. Uno sbaglia. Mette una di questa. Noi la. La possiamo togliere. Serve più figo. Hanno messo anche. Replane. Rega. I replay. Secondo me giocabilità. È molto bella. Più bella. Di prima. Per la giocabilità. Però. Per lo sblocco. Te devo dire. Da rivederlo. Perché così. Rega. È impossibile. È impossibile. Bisogna avere un Q. Io. In. 50 casse. Aperte. Oggi. Vi posso dire. Che ci ho messo. Un botto. A sbloccare. Un personaggio. C'è. Un botto. Mezz'ora. A sbloccare. Un personaggio. Qua mi ha dato l'elisir. Come potete vedere. Come vedete qui. Vedete che. È cambiato tanto. Praticamente. È molto. Poi vi dico. È molto più difficile. Ora. Che prima. Su alcuni punti. Di vista miei. Perché vedete. Che questo capo. Vedete il capo. Il capo. Come potete vedere. Il nostro. Chiamamolo capo. Il nostro. Bellissimo personaggio. Ma perché. Te l'ho misse. Il colpo. Una cosa. Molto. Diversa. Da prima. È il fatto. Che tu. Con il capo. Puoi dare. I bonus. Al capo. Quindi. Molte abilità. Di sto capo. Sono state tolte. Si vede. Vaga. Vabbè. Mi hanno distrutto. Adesso. Molte. Mi vanno a dire. L'emote che hai. È la più rara che esiste. Si. Quindi. Non mi venite qui sotto. Nei commenti. A dire. Che questa è l'emote più rara che esiste. Perché. Penso che sia vero. Penso che sia vero. Che l'emote più rara che ci sia. Molti dicono. Che questo sia. Io non lo so sinceramente. Perché. Ragazzi. Sono tanti personaggi arrivati. Io noto una differenza rispetto a prima. L'ho noto più realistico. Perché vi dico che l'ho noto più realistico. Perché si vede che il regale è più realistico. Ma il bocciatore. Quanto è forte. Oh. Me l'ha missa. Regà. Me l'ha missa. No. No. Meno 5. No. No. Così non va. Così non va. Da qui possiamo vedere playing. Quindi. Qua mi dice. Che sono un player. Che ha 13 skin. Però quella da 40. Non so perché sta cosa. Però. Vedete. Il mio è livello 66. Non so. Ditemi anche voi. A che livello state. Perché. Sono curioso. Di voi player. Regà. Parliamo di un gioco. Davvero realistico. L'altra cosa che volevo mostrarvi. Il pass è cambiato. Quindi. L'ultima volta che avevo fatto un video. Dello script del pass. Vi posso assicurare. Che non ci stanno. Al momento. Personaggi gratis. Quindi. In poche parole. Praticamente. Non c'è più il personaggio gratis. Dal pass. Quindi. C'è solo. Una skin gratis. Vi posso assicurare. Che. Il pass. Poi forse. Ve ne parlerò. Non è più. Petowin. Perché non è più. Petowin. Non è. Petowin. O Petowin. Non esiste nel pass. Quindi. Non possiamo shoppare. Per sbloccare i personaggi. Questo. Ve lo assicuro. Ma. Io trovo. Tante difficoltà. Secondo me. A vedere. E a trovare i personaggi. Questo è molto figo. Perché ho notato. Che più. Più livello c'è qui. Più roba ti dà. Come potete vedere. Quindi. Potenziate anche un po' questi. Skin. Qui ci dice. Tutti i set delle skin. Che ci dà anche ricompense. E questo è una cosa davvero figa. Più emotai. Più robai. Più avatarai. Ottieni. Ricompense. E questo. Non c'è nessun gioco supercell. Che tipo più avatarai. Più. Più bravo elai. Più robai. Non ti danno mai dei premi. Qua c'è. E questo è qualcosa di. Assurdo. Secondo me. Poi. E' davvero unico. E' davvero bello. Raga. Veramente bello. Hanno cambiato un botto di icone. Qualche icone. Non so manca come si sblocca. Boh. Raga. Io vi faccio sapere. Nei prossimi giorni. Cosa ne penso di sto aggiornamento. Se è un gioco fatto meglio. Se può uscire. Ma questo aggiornamento. Lo renderà un gioco faboloso. Consiglio ai creatori. Di migliorare lo sblocco dei personaggi. Tipo più facile. Perché così. Raga. E' impossibile. 68. Di sti cosi. Mi son beccato un personaggio. Quindi. Se dovete. Contattateli. E diceteli. Kevin vuole i personaggi. Quindi. Noi ci salutiamo. E ci rivecchiamo. Nel prossimo video. Ciao belli. Ciao belli. Ciao belli. Grazie.